Gentili telespettatori, buona giornata. Sarebbe intercorsa ieri sera tra Berlusconi e Lameloni una telefonata. Lameloni quando ha visto, ha sentito che Mattarella potrebbe incaricare Ignazio Larussa di formare un governo con un incarico esplorativo, quando ha capito che Berlusconi potrebbe andare a dire a Mattarella ci devo pensare, non lo so, con il rischio di trovarci un governo Draghi fino alle elezioni anticipate nuovamente a fine gennaio. Lameloni dice, qui le cose stanno scivolando di mano, il cavaliere non ha niente da perdere, non ha nulla da perdere, cosa gliene frega a Berlusconi? Anzi, visto che è in vena di vendette e ricatti, potrebbe fare la vendetta massima, far saltare tutto il banco. Così poi potrebbero fare un altro film, dopo il Caimano, potrebbero fare il Caimano che fa, non lo so, la continuazione del Caimano. Va bene, va bene. Si vedranno Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, lunedì 17 ottobre, cioè oggi, nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma. Potrebbero cambiarlo in via dei cinghiali, visto che ormai è cambiato un po' la flora e la fauna a Roma, via dei cinghiali più che della... L'appuntamento dovrebbe essere intorno alle 16. È stato fissato dopo un lungo colloquio telefonico durante il quale è stato ristabilito un canale di comunicazione. Senza appunti. Meloni è la leader del centrodestra, il cavaliere si sarebbe piegato, ma Meloni è la leader del centrodestra e in questa veste sarà premier, se Mattarella le conferirà l'incarico. A dimostrarlo la location dove sarà certificata la riappacificazione, non villa grande, non una sede istituzionale, ma il quartier generale della leader di Fratelli d'Italia in pieno centro storico, proprio a Palazzo Madama e Montecitorio. Un evento che riporta la memoria al 2014 quando il presidente Azzurro entrò al Nazareno per incontrare Matteo Renzi. La Meloni ha passato il fine settimana in famiglia, lontano dai flash e dai giornalisti che erano sotto casa tutto il tempo, si danno il cambio. Io vado a mangiare e tu scontrolla che non esce. Ecco, la squadra per ora è in stand-by. Si attendeva un segnale da Berlusconi che alla fine è arrivato dopo l'insistenza di Pier Silvio, AD, amministratore delegato di Mediaset, da Marina Berlusconi, dall'amico Gianni Letta, da Confalonieri. Insomma, si è mossa tutta la corte dell'imperatore Berlusconi per convincerlo che è meglio trattare, come certi ricordati c'era il puffo che diceva è meglio, che è meglio, che è meglio trovare un accordo, è meglio per lui, per le sue aziende. Ci siamo capiti. Perché lasciare di nuovo le mani all'elettorato che poi andrebbe a votare centrosinistra, voi sapete che la somma dei partiti di sinistra è 50%, è più alta del centrodestra, se si dovessero mettere assieme tutti quanti in una prossima elezione, vincono le elezioni. Pertanto, se si perde questo governo, è finita. Il potere della sinistra, cioè la sinistra che torna al potere dopo dieci anni di potere incontrastato, andrebbe avanti per altri cinque anni. Un'egemonia che porterebbe alla distruzione di questo povero paese, già in macerie. Pertanto, per questa infermiera Ronzulli, nessun incarico di governo, nessuna posizione in prima linea nel partito come coordinatrice, neanche come coordinatrice. La Meloni non la vuole vedere neanche col binocolo, cioè non la vuole proprio vedere. Quando la Meloni si fissa con una cosa, da quello che ho capito io, non gli si fa più cambiare idea. Rompere con Meloni non conviene a nessuno, dicono a casa di Silvio. Così sarebbe sceso Berlusconi ha più miti consigli. Rinunciando alla sua casella la giustizia, visto che è in mezzo un processo. Il no di Meloni è noto, resta Carlo Nordio la giustizia. E poi la Meloni non ha nessuna intenzione di cancellare la legge Severino. Anzi, ai referendum ha detto che lei era contraria alla cancellazione della legge Severino che voleva Salvini, perché anche Salvini con i processi potrebbe finire in mezzo. Immaginate che a Salvini gli danno qualche anno per abuso d'ufficio nei processi che ha, con la legge Severino farebbero fuori Salvini anche lui come senatore. Quindi anche Salvini nei referendum voleva cancellare la legge Severino. Che strana coincidenza. Fissazione a Berlusconi vuole lì la giustizia. Che strano. Tutti lì alla giustizia. Affari personali? Ma no, coincidenze. Ma cosa dite? Coincidenze, su. Pensare male. Pensare male si sbaglia? A volte ci si azzecca, anche molto bene. Fratelli Fratelli d'Italia infatti non ha nessuno, non ha neanche sostenuto il quesito referendario che ne chiedeva l'abolizione della legge Severino. Pertanto impossibile che possa consegnare il di Castero a un portito che avrebbe questa missione. Cancellare per il suo capo la legge Severino. Chi è condannato non va in Parlamento. Voi direte, ma se i giudici lo fanno apposta quello è un altro problema. La legge Severino va benissimo. Un condannato non va a fare il parlamentare e il senatore. Poi, poi, se una parte della magistratura utilizza questa per far fuori gli avversari della sinistra, quello è un altro conto. Bisogna impedire di utilizzare una legge per degli scopi di questo tipo. Ma la legge in sé è giustissima. E sono pienamente d'accordo con Giorgia Meloni. La legge Severino è giustissima. È giustissima. Poi bisogna impedire che alcuni magistrati la utilizzino per far fuori politici che non piacciono. Ecco, però quella è un'altra questione, è un altro libro. È un altro libro. Non si può cancellare la legge Severino perché sennò i giudici, magari qualche giudice la utilizza contro di te. E no. No. Bisogna impedire al giudice di utilizzare la giustizia per scopi politici. Bene. Benissimo. Malissimo. Che ne so. Poi interviene il PD e dice ma sta trattativa Berlusconi Meloni. Cosa c'entra? C'è di mezzo Mediaset per caso. Grazie a tutti e arrivederci a presto.